Ho dovuto lavorare alcuni giorni per rendere masticabili questi concetti, ma alla fine ci sono riuscito. Qualcuno mi ha detto che utilizzo esempi banali per esprimere concetti professionali. In realtà è proprio il fulcro delle telecomunicazioni masticabili, rubrica che stiamo portando avanti. Ossia rendere banali, ma nel senso di facile comprensione, dei concetti difficili. In questo modo si riesce ad allargare la platea di chi riesce a comprendere questi concetti ed è lo scopo, ripeto, della nostra divulgazione. Oggi mi sento divulgatore. Allora, innanzitutto definiamo cosa significa famiglie, perché abbiamo il titolo di questo video è le tre famiglie dei segnali 5G. Allora, per famiglie intendiamo che le frequenze del 5G, infatti il 5G è diviso in tre gruppi di frequenze. Non è un'unica frequenza. Per spiegare meglio il concetto di frequenza, che anche questo, nonostante sia una parola diffusa, potrebbe essere un concetto un po' difficile da focalizzare, vi voglio fare andare indietro coi pensieri a quando sintonizzavamo l'autoradio selezionando la frequenza 875, 125 per RTL, eccetera. Ecco, quei numerini lì sono i numeri della frequenza, abbinati a un'unità di misura, in quel caso erano i MHz, però ecco, il concetto è proprio quello, quella è la frequenza. A differenza delle automobili, fortunatamente, i cellulari non hanno bisogno della rotellina per sintonizzarsi sul segnale migliore. È una cosa che fanno in automatico, quindi molti rattacapi ci vengono tolti. Il 5G, come dicevo, ha tre tipologie di frequenza, che abbiamo definito famiglie, che farà schifo, e sono sicuro che per questa ragione molti, in questo momento, per malosi, chiuderanno il video dicendo questo qui, dice famiglie invece di frequenze, ma queste famiglie sono low, che vuol dire bassa, o basse se diciamo famiglie, mid o middle, che vuol dire intermedie, e high, che sono le frequenze alti. Ogni famiglia di frequenze ha delle caratteristiche diverse di funzionamento, di applicazione e anche di modalità di implementazione. Entrando nel dettaglio, per darvi un'idea di cosa sono queste diverse frequenze, partiamo dalle frequenze basse. Le frequenze basse vanno dai 600 MHz, che sono la stessa unità di misura che si usava per le radio. Le radio si fermavano con le FM a 108 MHz, mentre in questo caso partiamo dai 600 MHz, che sono frequenze che venivano dedicate alla trasmissione delle reti televisive analogiche, anche digitali in realtà. Allora, le frequenze basse vanno da 600 MHz a 2 GHz e mezzo. Questa è una banda di frequenza che ha una caratteristica molto interessante, che è quella di poter coprire decine di chilometri partendo da un'unica antenna. Quindi hanno una diffusione molto forte del segnale e questo permette di arrivare in zone rurali facilmente, quindi anche in zone con bassissima popolazione, con bassissima urbanizzazione, si può avere questo segnale del 5 G. Di contro, c'è un contro che è la velocità massima di questa frequenza. Infatti, dei test effettuati negli Stati Uniti, ecco da chi è andato a misurare le velocità effettive, si raggiungono circa 220-230 Mbps di velocità. Che è una velocità comunque molto alta, perché è circa 4 volte la velocità che si raggiunge con la vecchia tecnologia 4 G. La distanza chiaramente ne fa da padrona, quindi se si è più vicini al ripetitore si possono fare questi 250 Mbps, se si è più lontani andrà magari solo a 100 Mbps, però comunque si ha un buon risultato. C'è anche un'altra caratteristica importante, è che queste frequenze basse penetrano gli edifici, quindi entrano attraverso gli ostacoli, passano attraverso gli ostacoli e quindi negli spazi interni il segnale non viene a mancare. C'è poi la seconda banda, la banda intermedia, che va dai 3 GHz, circa 2 GHz e mezzo, 2 GHz e mezzo, 3, fino ai 6 GHz. Si chiama anche sub 6 GHz, che sono le frequenze quindi al di sotto dei 6 GHz. Queste possono fare alcuni chilometri. Sono frequenze molto simili a quelle delle generazioni passate. Cosa vuol dire? Che il 3G e il 4G utilizzavano frequenze simili a queste 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz. E questo cosa permette di fare? Permette di riciclare le torri che già ci sono e quindi poter fare una più veloce implementazione di queste frequenze senza dover creare nuove infrastrutture, creare nuove celle. Nonostante le infrastrutture servono per ampliare la capacità dei ripetitori, però i ripetitori, le torri restano le stesse. E quindi è molto più veloce la sostituzione delle celle, o ampliamento delle celle, da vecchia tecnologia a nuova tecnologia. Quindi si limitano anche i costi di impianto, perché non bisogna fare nuove torri. La velocità media di questa tecnologia è di circa 600-900 Mbps, che è molto veloce, quasi 1 Gbps. Di picco si prevedono 2 Gbps e in futuro, con le implementazioni future del 5G, in questa frequenza si prevede di arrivare fino a 5 Gbps di velocità. Chiudiamo con le frequenze, quelle più alte. Le frequenze alte vanno dai 24 Gbps ai 70 Gbps. In realtà negli States stanno già utilizzando anche i 95 Gbps, le frequenze molto più alte. Una premessa, queste qui sono nuove frequenze per la telefonia. Non sono mai state utilizzate, le frequenze dai 24 Gbps in su, per le reti mobili. Qualcuno dice, eh sono frequenze nuove, sono pericolose. Non è vero perché non le hanno utilizzate con le reti mobili, ma sono normalmente utilizzate per fare dei ponti radio da un punto all'alto. Quindi punto-punto si chiamano, non punto-multipunto come dalla torre ai tanti cellulari che ci sono nelle nostre strade. Sostanzialmente queste nuove frequenze hanno delle caratteristiche innovative per la telefonia mobile. Infatti con queste frequenze si può arrivare tranquillamente a 1-3 Gbps di velocità, ma arrivare anche fino ai 7-10 Gbps in futuro, quindi delle velocità molto molto alte. Il di contro c'è che queste antenne hanno una diffusione che è molto limitata dagli ostacoli, quindi bastano le foglie di un albero per far sì che il segnale venga a mancare. E quindi le celle sono, quando parlavo nel primo video delle femtocelle, delle piccolissime celle, si parlava proprio di questo, che sono celle che vanno messe ad ogni angolo di strada, perché hanno una distanza di poche centinaia di metri. Nei luoghi chiusi difficilmente entrano, quindi la velocità maggiore si avrà nei luoghi aperti. E questa è la caratteristica che distingue queste frequenze alte. Per oggi direi che abbiamo affrontato tanti argomenti e vi ringrazio.